Allora, facciamo un esperimento terrapiattista. Qui abbiamo un rotolo di carta igienica, un ago infilzato, lo sfondo più o meno del cielo, eccolo qui, io adesso questo rotolo lo sto girando, vedo che l'ago diventa più piccolo, ma non vedo che l'ago è inclinato, adesso torno indietro, l'ago diventa più grande, ma non vedo che l'ago è in verticale. Riproviamo. Ok, io non è che riesco di capire, invece mi metto magari qui, così, lo stesso dai, non si capisce, perciò uno non è che dice, ah dovrei vedere le case o i campanili come la torre di Pisa.